Nella settimana dal 19 al 25 dicembre si registra un decremento delle nuove infezioni con un'incidenza pari a 8.495, meno 24,63%. Il tasso dei nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Ragusa, Palermo e Caltanissetta. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 70 e i 79 anni, tra gli 80 e gli 89 anni e tra gli over 90. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in diminuzione. I dati relativi alla campagna vaccinale prendono in esame la settimana dal 21 al 27 dicembre. Nella fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 24,29%, mentre hanno completato il ciclo primario 64.390 bambini, pari al 20,89%. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,91%, mentre la percentuale di chi ha completato il ciclo primario è pari all'89,55%. I vaccinati con terza dose sono 2.771.724, pari al 72,39% degli aventi diritto. Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha autorizzato l'utilizzo dei vaccini bivalenti per la somministrazione della quarta dose su richiesta a tutti gli over 12 che abbiano ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni. Dal 1 marzo le quarte dosi somministrate sono state 217.086, di cui 191.245 ad over 60. Dal 23 settembre è consentito l'utilizzo dei vaccini bivalenti anche per la quinta dose per i soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria. L'autorizzazione alla somministrazione della quinta dose con vaccini bivalenti è stata estesa dal 17 ottobre anche agli over 80, agli ospiti in RSA e alle persone over 60 con fragilità. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 6.207.